Una donna di 83 anni è morta, schiacciata dal cancello della sua abitazione. Il fatto è avvenuto a Montalto Fugo, incontrata a Pianette. La pensionata si trovava nel cortile della casa quando all'improvviso il cancello sarebbe uscito dalla sua guida, investendola in impieno. È stato il figlio, ritornato a casa dal lavoro, che ha trovato la madre morta. Del chiarimento della dinamica del caso si occupano i carabinieri.